Avete voluto partecipare con noi al Festival Internazionale di Poesia di Milano? Perché l'anno scorso abbiamo fatto un'esperienza bellissima presentando il nostro libro su Fabrizio D'Andrea. È stata un'esperienza veramente molto coinvolgente, molto calda. Rispetto a tanti festival, quello ha dato l'impressione di avere un grado di coinvolgimento e di calore nettamente superiore. E quindi anche quest'anno abbiamo deciso che bisognava ripresentarci. Come al solito ha già detto tutto Gimpo che mi porta via sempre le battute migliori. Comunque davvero il Festival della Poesia si percepisce immediatamente che è un festival costruito nel tempo attraverso la poesia. Quindi le persone sono molto attente. Non è il solito grande festival letterario molto spesso, sì importante però assettico. C'è vita, c'è poesia, detto il Festival della Poesia. Quindi lunga vita e complimenti. Grazie. Danila Bonanni, Giponfosso.